Go live con questi occhioni della gatta qua, troppo simpatia Un minutino over 22 per questa che è la giornata mondiale della poesia Pensavate che fosse simpatica questa gatta Ma guardate questo qui, guardatelo qua Incredibile questo qui, troppo simpatico Allora, quindi per la poesia ci mettiamo qua dove siamo Ecco qua, e vedete qua, adesso mi affaccio dal balcone E vedete che si vedono le palme Mentre prendendo l'elicottero vedete che c'è una bella visione dall'alto Quindi salendo ancora più su, vedete che si vedono anche le barchette Ed ecco qua Allora Quindi Ci sono tanti argomenti Il più importante è che io ho all'insegna del corrigere Ho corretto quasi tutti i miei errori E soprattutto wake up in the morning Mi sto allenando Sempre breve ma un po' meglio Alterniamo notizie positive a meno positive Io pur avendo diciamo molto molto materiale E quindi parecchie opportunità Sono stazionario Andiamo qui Sono stazionario Per il solito boicottamento Isolamento da Piovra Gomorras Più loccio del mostro Quindi Voi avete preparato le vostre poesie Io poi dirò la mia C'era stata carenza Nella fase difensiva Nell'organizzazione Alcuni dettagli non li avevo ben chiari Ciò non toglie quindi l'onore Gli enormi meriti E comunque tantissimi risultati positivi C'è una carrellata Al di là comunque che Se non fermi quegli elementi E se la luce non si organizza al meglio Ripetuta Ripetuta E noi comunque Andiamo avanti nella preparazione Quindi Quarta quaresimina Quinta quaresimina Domenica delle lampe Pasqua Sdramatized Pasqueta trasgr E quindi ci prepariamo alla Pasqua E quindi una Pasqua Go vegan Quindi ci sono le uova di Pasqua E che all'interno hanno Cioccolata di agnelline bianche Mentre un pranzo Un pranzone Specialone Go vegan Di Pasqua In due anni All'insegna del go vegan Sono stati Fatti Enormi Passi in avanti Questo è già un risultato Straordinario Soprattutto si vede Sulla salute Delle persone E anche dei ragazzi Poi parleremo meglio Ma andiamo qui Andiamo 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 veloci qui Andiamo Allora Perché mi serviva Quindi Oggi Bisogna ammettere Che sono stato puntuale Like Lion Zanadi Un zanadi Che troviamo Ancora qui Allora Quindi Sto cercando Uno sfondo E andiamo Sul tigrotto Andiamo Sul tigrotto Vedete Che è un musetto Troppo simpatico Quindi Se il tigrotto Lo ami E lo rispetti Siccome è un animale sacro Tutto l'universo Ti ricompensa Ciao tigrotto Qui Ma subito La poesia Di oggi Oggi Che è il giorno Dedicato Alla poesia Mi illumino D'immensa Simpatia Simpatia E qui Un abbraccio Un abbraccio Dei Ancora Sì Grazie.